Rudolf Steiner, collegamento con le gerarchie spirituali, momento magico a Capodanno. La scienza dello spirito insegna che le 13 notti sante sono momenti particolarmente pregni di energia spirituale, dove le gerarchie celesti sono più vicine a noi. In modo particolare, questa avviene la notte del 31 dicembre, nel minuto tra le 24 e le 00.01. In quel minuto, i nostri desideri vengono accolti dalle gerarchie spirituali e ci vengono resi durante il corso dell'anno. Valorizziamo quindi questo momento con un piccolo rituale, o un raccoglimento in silenzio, o preghiera. Se stiamo festeggiando l'arrivo del nuovo anno in compagnia di amici e parenti, possiamo prenderci tutti per mano in questo minuto sacro di mezzanotte. Chiudiamo gli occhi e concentriamoci intensamente sui nostri desideri e aspirazioni, immaginando che vengano portati dai nostri angeli verso il cielo. Dopo questa breve e intensa esperienza, anche gli auguri che ci scambieremo saranno più ricchi di amore e gioia. Tratto da le 13 notti sante di Rudolf Steiner Rudolf Steiner ci dice anche che le 13 notti sante cominciano il 24 dicembre fino alla notte del 5 gennaio. In questo periodo, persone particolarmente dotate di sensitività possono avere rivelazioni profetiche attraverso i sogni o attività meditative. Grazie a tutti.